Buoni risultati per il caso risalente a più di una settimana fa dell'uomo di Agropoli posto in isolamento in seguito ad un test serologico risultato positivo. Così come annunciato dalle autorità sanitarie, la situazione non era preoccupante vista l'inattendibilità dei test rapidi a cui l'uomo era stato sottoposto dall'azienda in cui lavora. Risultato positivo per Prassi, l'ASL ha deciso di porlo in isolamento, ma era solo un altro dei vari falsi positivi che sono stati rilevati ad Agropoli e nel Cilento. L'uomo non necessitava di tampone, ma l'ASL ha preferito farlo solo pochi giorni fa, precisamente lunedì, visto il contesto non allarmante. Tampone nasofaringeo che poi ha confermato la negatività al coronavirus. Nessun pericolo o allarme ad Agropoli, il contagio era già dapprima un'ipotesi lontana ed il tampone ha confermato tutto ciò. In città solo un positivo attivo, l'uomo di Cava dei Tirreni che attende ancora la guarigione.